Una strategia condivisa con finanziamenti dallo Stato e dall'Europa. La Regione Emilia Romagna varia il piano contro l'invasione della cimica asiatica che sta mettendo a rischio la produzione degli imprenditori agricoli, in particolare le coltivazioni di pere, mele, pesche, ciliegie, albicocchie, kiwi e susine. Non rari i casi nei quali l'intero raccolto è stato buttato. Dalla Regione saranno messi subito a disposizione 250.000 euro per l'attivazione di mutui a tassi agevolati e le delimitazioni delle aree colpite necessarie per soffrire di sgravi fiscali e contributivi. Dall'Ibilia Romagna partirà poi la richiesta d'aiuto al Governo e all'Unione Europea, mentre parte dei fondi di rete all'innovazione saranno destinati alla ricerca per contrastare l'insetto che in quest'ultima è stata prolificato grazie alle alte temperature. Oggi ci siamo riuniti con le associazioni agricole, la nostra consulta dell'agricoltura e soprattutto la presenza anche di molte organizzazioni di produttori per affrontare il tema della cimica asiatica che quest'anno è stato molto pesante e sta procurando dei danni gravissimi sul territorio, in particolare su alcune specie di frutta, le pere sono le più colpite, ma vediamo che la cimica sta attaccando quasi tutti gli areali e quasi tutte le produzioni. Di conseguenza avremo delle perdite produttive molto significative e c'è in campagna paura e a tratti perfino a scoramento perché gli effetti del cambiamento climatico sono ancora una volta la base di questo proliferare enorme di cimici. Noi sappiamo che rispetto alla cimica asiatica purtroppo in tutto il mondo non ci sono ancora soluzioni risolutive, anche se la regione si è impegnata molto nel finanziare la ricerca. Ieri abbiamo approvato una strategia condivisa che vogliamo portare avanti tutti assieme che prevede interventi giretti della regione, una serie di interventi da chiedere allo Stato e da altri da chiedere all'Unione Europea anche tramite la rete delle regioni europee Arefla. La regione nell'immediato ha stanziato 250 mila euro che serviranno per abbattere i tassi su una serie di mutui agevolati anche per consolidamento di passività o di prestiti di emergenza che aiutino gli agricoltori a non avere crisi di liquidità. Delimiteremo tutte le aree che hanno avuto questi grandi danni per fare in modo che gli agricoltori possano avere anche sgravi fiscali e contributivi. Inoltre faremo una parte di riserva di fondi nei prossimi bandi per l'innovazione affinché vengano approvati i progetti che studino e continuino ad approfondire il tema della cimice asiatica e per parte nostra ci faremo parte attiva presso il governo perché si faccia presto ad introdurre l'antagonista naturale, la Vespa Samurai. Noi dal 2015 che come Regione Emilia Romagna lo sollecitiamo e si rendiamo disponibili anche a finanziare con i nostri fondi dei centri di riproduzione per fare poi presto ad introdurre in campagna. Infine chiediamo all'Unione Europea anche un aiuto sui fondi mutualistici perché questa sarà una battaglia che durerà del tempo e quindi abbiamo bisogno di dare la possibilità agli agricoltori di resistere. Questo però vorrà dire rafforzare anche le risorse dell'Ocm. Infine, ma non per ultimo, chiediamo al governo un grosso sforzo sul fondo di solidarietà nazionale. Con i miei colleghi delle altre regioni del nord stiamo constatando una situazione terribile per cui abbiamo bisogno che il fondo nazionale sia rimpinguato di almeno 100 milioni di euro altrimenti pensiamo che sia difficile riuscire a far resistere gli agricoltori.